Ciao a tutti i più belli, come sempre siamo qui nelle sale del casino di campione per l'Italian Poker Tour, come vedete siamo durante una pausa per riprendere il torneo a motori spenti. Come vedete tavoli ancora gremiti, siamo poco meno di un centinaio ora al tavolo, andiamo a fare una passeggiata per andare a scoprire un po' gli stack dei giocatori. Vedete qui davanti a me Antonio Buonanno, andiamo a sentire anche da lui come sta procedendo il torneo, Antonio come siamo messi, andiamo bene? Stabili, tranquilli, il tavolo su tutti i bravi giocatori, quindi si gioca bene qui, bocca al lupo visto che inizia il livello. Ciao Antonio, abbiamo sentito Antonio Buonanno e c'è il segnale di start per quanto riguarda il nuovo livello. Andiamo a inquadrare anche il tabellone, vedete 87 giocatori ancora in gara, 1.200 e 2.400 i bui, 300 invece l'ante. 60 minuti di pausa dopo il livello 14, quindi pausa cena che sarà dopo il prossimo livello di gara. Noi ci diamo appuntamento ai prossimi aggiornamenti dalla sala, come sempre Poker Italia Web, all'IPT di Campione. Ciao a tutti! Grazie!